La società della gioventù a me piace da me ne beve ma non ci piace da lavorare Oste! Oste! Com'è? Portate l'altro litro Perché? Se noi ce lo bevemo e poi ti rispondevo E beh! Che c'è? Che c'è? E quando il vino è bello in colza è bello in colza è bello per fare la corsa per farla breve portate no mio caro chiama quello che portate da bello da bello grazie ragazzi applausi applausi stasera hai fatto una bella live si